musica 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 ci sei? è rosso è rosso? è rosso è rosso perchè ha l'influenza musica 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 e amori quanti nevastè jambo amici ciao amici sono qui con un cameraman bellissimo e volevo farti vedere no è un pollice il cameraman una persona che non conoscete che oggi mi supporterà nel mio video perchè sono andata in un negozio di animali a comprare in realtà la pappa di zack e vabbè poi in realtà una volta i regali li facevo a me adesso fa i regali ai gatti sono entrata nella corsia degli animali e ho visto tante cose prelibatissime bellissime e quindi ho deciso di fare un pacchettone per diciamo i gatti in realtà poco fa ho visto leone che aveva già preso un sacchetto si stava per mangiare ciò che c'era dentro leone è un ladro in realtà dovrebbe essere la sorella fujiko ma vabbè adesso vediamo che cosa gli ho preso gli diamo da mangiare e scopriamo se i gattoni piace fai anche due transizioni vai allora ho qua i piatti di plastica occhio alla plastica io questi poi li rilavo cioè li lavo e li utilizzo per il cane almeno tre o quattro volte quindi stiamo attenti sempre alla plastica ecco che arrivano e guarda tutti i gatti interessati la pappa una è già qua figurati allora ho preso un sacco di cose un'altra allora ho preso col 30% di sconto dei catisfaction che sono i croccantini che loro amano sono dei premi non dei croccantini poi i liquid snacks ma cosa non lo so adesso li proviamo liquid snacks poi dei bastoncini molto molto buoni hindus no almonatur costaranno un sacco di soldi poi questo qua ve l'avevo già fatto vedere in un video scade nel 2020 ah è il tiramisu dei gatti si è il dessert per i gatti dopo glielo facciamo poi abbiamo dell'expedical cat fagottini ripieni al formaggio ideali per tutte le razze quindi anche per me si poi qualcuno mi ha regalato ecco Martina e Sara mi hanno regalato il topino radiocomandato dopo voglio farlo andare poi surprise quindi sarebbe un gioco di parole tra zuppa e sorpresa ah tu la conosci? per i gatti vecchi quindi la zuppa non lo so liquid snacks deluxe poi ah poi qua stai facendo proprio si virtus mini strip adult 90% di qualcosa merluzzo dell'alaska ma c'è una tigre? è perchè è zorro merluzzo dell'alaska è pelzollo è pelzollo i minions fancy jerky poi catisfaction grossi perchè loro impazziscono per questi infatti guarda c'è il gatto ribaltato poi c'è vuoi questi qua che erano forma di cuore carini? buoni gnam barbecue he hurts al barbecue non ci credo al barbecue quindi li possiamo mangiare anche noi esatto è piatta è piamma guarda questi gli ha rubati il leone perchè voleva mangiarli quindi lui aveva scelto i cuoricini snack e special you vai via ladro poi ho preso il latte per gattini cat milk eh ma non abbiamo più gattini noi però volevo dargli un picchino di lattuccio nel senso possiamo intendere che lui è il più piccolo ma non è il più piccolo hai ragione è il più piccolo di età ma altri satisfaction poi no questi sono i dreamies ah scusa i fish tonnetto mmm che buono il tonnetto gnam gnam e amore per ultimo ma non meno importante per lavargli i denti no è vera lo spazzolino da denti che tu metti il dito e gli lavi i denti ma e il dentifricio spray quindi ora siamo pronti a vedere se i gattoni piaceranno a tutti questi regaloni abbiamo aperto il giochino per i gatti con il topolino sotto che è in ricarica ma oh sta no no adesso te li diamo noi stufante hai messo in ricarica il topolino vedi si carino lo useremo dopo grazie fan prego amore la prima scelta è tua ah il dessert direi che non si parte mai dal dessert giusto? giusto i denti si lavano la fine per ultimi mi ispira questo qua con la tigre vai quindi che cosa ah Virtus per adulti merluzzo dell'alaska vai il merluzzo dell'alaska il 90% animale il 10% non si sa boh la pappa il bat segnale aiuto 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 il cat segnale che scatenate l'inferno 50.000 like assaggiamo anche noi il ciubo degli animali dai tieni un piattino cosa stai facendo? te lo metti addosso metti no uno a testa eh mangiatemi no amore mangiatemi basta devono mangiare un sacco di cose mangiatemi numero e creamy subito si è avventata e che loro guarda l'ha rubato fiamma paura vediamo se ne vuole uno ma questi hanno un odore un po' strano piffol è la testa di merluzzo ha rubato quello di di mirta tranquilli gattoni che la festa non è finita eh Leo lo sai che è sempre stupante è tipo è tipo surri si è numero 8 volte esatto devi andare ladra vabbè diciamo che sono i preferiti di sale e creamy allora io vado con il liquid snack che schifo ma guarda che sei comunque dal Giappone ma perchè sono già lì oddio sei comunque dal Giappone allora ho piaciuto ma allora sarà tipo latte oh che buono si danno i bacini oh tre bacini che buono liquid snack aspetta che me la metto qua così vediamo è tipo ma è tipo salsa rosa si è ma che puzzo fa oh mio dio come mi piace la bugie aia aia creamy amore mi fa il marte vabbè è un wurster con la salsa rosa le tue dita sono il wurstel no no beefball oh quanto gli piace vediamo Leo se gli piace Leo assaggia la cacca liquida no no non c'ho nulla io allora per ora questo piace da impazzire Mirta oh lascia la mia Mirta si vabbè ma Mirta buongiorno eh ho già capito vieni tieni i cremi finisci la mano direi che questo gli è piaciuto da impazzire quindi mettiamo il liquid qui tocca a te amore ok vai qua intanto stanno ancora facendo i banchetti e gli ho messo un po' di liquid snacks allora facciamo che il lattuccio il lattuccio il lattuccio ti sembra buono vai calcio e vitamine calcio e vitamine vediamo se loro piace il lattuccio io non gli ho mai dato a loro il lattuccio vediamo se gli piace magari è come il nostro eh oh è buono no non berlo amore 50mila like assaggiamo il cibo dei gatti oh non usa sa di latte eh forse è la mia mano che puzza di cibo dei gatti tutto tipo vai amore loro vogliono assaggiare rovescia e qui il vostro lattuccio com'è il lattuccio e guarda Mirta ancora ma povero il mio amore adesso il primo te lo do a te guarda mentre tutti assaggiano il lattuccio tieni amore io ho la mia Mirta aspetta però aspetta facciamo assaggiare anche a Leone Leone mi sembra quello che guarda e basta vai Leo povero spostatevi lasciate be spostatevi è di Leone è di Leone non gli piace non gli piace guarda secondo me prego bevete il lattuccio prova la Milta anche no Mirta adesso da sola si becca gli almonatur pet and food e amore questo iniziamo a darlo alla mia Mirta vedete che lei l'ho vuoto la porto via tutto e l'ho rubato tutto allora uno anche a Leo Leo Leone Melone non ho detto ho chiamato Melone aspetta gli ho messo la pinza no è più forte è più forte la pinza un po' per uno non fa male a nessuno è tipo un lecca lecca è si perchè dentro è morbidissimo amore apri un bel tonnetto se capito non sto più decidendo io dovrei romperlo con il dito immagino sei pronto? alla roulette che strano che ce li sale senti senti questo guarda come è arrivato Zorro guarda come ha sentito il tonno ah Zorro ama il tonno il tonno gnam 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 chissà se qualcuno mi affetta al dito adesso oh guarda sale ma è incredibile come si avventa sul cibo eh si no amore posso dirti che è semplicemente il tonno nostro è il tonno è il tonno sale ma lascia mia Mirta che non è la mia preferita anche fiamma si anche fiamma non l'ha mangiato anche fiamma manca un atto manca Bubi e Buzz e anche Buzz e anche Buzz lo sai che loro Bubiii Bubiii vai accettati dovete sapere che Bubi e Buzz sono tenerissimi ma sono anche paurosissimi si nascondono ovunque non si sa perché la Papa eccomi eccomi anche io voglio assaggiare qualcosa anche perché non so se loro lo sanno sai che Bubi impazzisce per questi vero Bubi lecca lecca il fondino Buzz si attacca Bubi non puoi leccarti i baffi se ancora non hai mangiato nulla mentre Artù finisce il suo tonno che è palesemente come il nostro tonno e anche di marca perché è molto buono è uguale visto che abbiamo trovato Bubi Bubi dovete sapere che lui ama questi però non li mangia insieme agli altri li mangia sopra cosa dici un bel surprise della confezione mi sa che è di plastica lì chi vuole eh non glielo devo dire neanche dire a Salem è già lì guarda che bella ma cosa sono tipo tonni boh è tipo una zuppetta guarda te la farei vedere ma no no la vedo la vedo povero lei ha niente cibo per la glassone ecco lui a Bubi bisogna metterglieli sopra anche a Mirta amore lo sai un po' sopra da una parte un po' dall'altra e loro se li mangiano c'è qui in casa nostra ogni gatto ha le sue regole gian 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 bravo guarda dietro di te che è arrivato tieni le ogne amore guarda dietro di te che c'è amore ha il tuo buzz prendi satisfaction e arrivano tutti i gattoni non l'hai visto amore? no l'hai buttati giù no no cioè vera che con la zappa glieli frega Piffle ah ma Piffle è proprio un fregone intanto a Fujiko e Creamy non gliele frega niente dei satisfaction eh no ormai hanno così tanto cibo in giro che guarda stanno distruggendo tutto 11 gatti possono distruggere il mondo l'ecosistema proviamo a fare il dessert e beh tu dici dopo tutto il cibo che ha mangiato c'è scritto aggiungere al preparato acqua tiepida mezza tazzina di caffè chiudere il tappo e agitare fino a ottenere un composto cremoso arrivo caffè? è arrivato? non lo so io ho fatto quello che c'è scritto dice di mettere mezza tazzina di acqua tiepida l'ho messa l'ho scadata nel microonde e agitare ma cos'è sta roba? non si fida molto eh di sta cosa se non la mangia Salem non la mangia nessuno l'ha assaggiato e l'asso guarda guarda ci ha bucciato il naso perché Artù sta scavando guarda è scambiato per la sua cacca a Salem mi sa che non gli piace neanche Artù se n'è andato Salem ce li tenta non gli piace ma perchè Piffo ci mette le zampe? o l'hai preparata male e non c'è molto no 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 gnam gnam no no altro che papà gnam gnam Salem ci riprova ancora una volta mamma mia zorro sto cercando di mostrare il cucchiaio niente questo ha preso il via niente a Piffo gli piace ma guarda Salem è sempre la stessa cosa Salem non è che se la Nugia un'altra volta cambia aia Salem me l'ha fatto rovesciare su Zorro guarda cremi è andato a mangiarlo da sola mi piace più o meno più o meno un assaggio e basta e poi mettiamo tutto via amore è pronta l'arma nucleare mamma mia amore quanto sei sexy con le ciabatte e le calze bravo perchè stai facendo ginnastica e tu devi farla fare ai gatti eravolo gattoni guardate cosa c'è un topo telecomandato oh mio dio un topo telecomandato Sasha non sa farlo andare sa solo farlo girare lo girai basta gira ah devi fare qua dammi prova ora non è cambiato niente lo vedessi lo farei e Krimi deve alchiapparlo amore bravo mettilo l'amore eccolo eccolo prendetelo eccolo guarda che secondo me è scivola sul parquet brava Krimi oh 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 se c'era Zacco impazziva perchè Zacco è un cacciatore di topi eh Artù che balzo vabbè diciamo che il topino aveva fame comunque ci piace no però ci piace ai gatti piace qualcuno qua che lo guarda dice ma cos'è quel coso Artù dai finiamo la merenda bravo Artù scava 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 un po' anche lì bravo scava amore l'ultimo perchè poi andiamo a lavare gli denti perchè non possono mangiare così tanto vero che è un assaggino facciamo i cuori rosa i minions che poi è min... nios minios snack al formaggio ma non sai leggere? è mininos ah i mininos hai ragione vabbè comunque facciamo così questo è pari questo è dispari bim bom bam cinque dispari ok questo è pari questo è dispari bim bom bam dispari non mi ricordo qual'era facciamo questo ok guarda Piffle che gioca con il topino ma no col telecomando sta giocando chi vuole un mininos hai visto? alla fine abbiamo trovato i mininos bello ma cos'è? sono scaglie di parmigiano reggiano ah sono snack di salmone strisce di salmone snack di salmone norveges ma tu scava? ma cos'è che scava? ma secondo me non gli sta dando dei problemi col cibo perché stai guardando a me? per me Mirta l'ampolo mangia questo ma Mirta mangia anche la spazzatura ma poverina qua non ha mangiato niente fiamma sta finendo il turno guarda meno male che anche Piammotta mangia eh si guarda Mirta che mamma mia per decidere di mangiare uno snack lo sta guardando lo sta toccando dai prendilo con le uglie e leone papà è proprio un gatto fatto a forma di pera Mirta leone è rubato su piffle via di qua piffle via indietro piffle ma guarda come lo devo tenere per non farlo mangiare mamma mia questo gattone piccolo guarda che l'artone che c'ha qua questo l'artone sei proprio grasso sei un gatto che c'ha tenuto Artù basta scavare vabbè io direi che è arrivato il momento amore ma non l'ha mangiato lì ora a chi laviamo i denti? ad Artù vai il più scemo è quello che si fa più toccare spazzolino i denti non si ruba il cibo anche per il massaggio delle gengive favorisce la circolazione del sangue Artù qua c'è qua Piffle dai è lì l'hai chiamato per una volta che viene sto mettendo il dentifriccio liquido qua vieni apri la bocca te l'ho già spiegato che non era possibile proviamo con Artù te l'ho detto e dov'è? come hai grappato il spider man Bubi? bravo ci vuole un po' e te l'ho già detto prendi Artù mi scappa che scappa piccolo Arturo non sai cosa ti aspetta Artù attento ha chiamato oh che buone gli snacks lo stai corrompendo con i baci non credo che gli piaccia molto neanche a lui però ho un'idea se non riesci a cioè se non riesci a lavare gli denti puoi accarezzarlo guarda fa da spazzola bello non credo però gli osserva quello bello gli piace guarda anche sotto il collo guarda quanto gli piace ma non è una spazzola è uno spazzolino lo so però visto che non riusciamo abbiamo trovato poi gli ho spalmato il dentifricio sul pelo vabbè e niente ascoltate oggi i gatti hanno fatto una super merenda direi che sono molto soddisfatti perchè sono spazzito e questi sono i miei piedi lo sanno che sono i tuoi piedi se arriviamo a 50.000 like assaggeremo anche noi il cibo del gatto si ormai è detto voi gli date gli snacks ai vostri cani e ai vostri gatti qual è il loro preferito e poi se vi è piaciuto questo video andrò a cercare altre snacksoni e gli darò ai gattoni stai angry? non lo voglio fare il video invece lo fai 50.000 like e mangiamo il cibo degli animali sul suo canale ciao ciao